Per tutta la vita mi sono chiesto che cos'è il ciclismo per me? Ho fatto il professionista per 10 anni, in totale 26 di agonistico, sempre inseguendo la performance e la velocità. Ma il ciclismo può essere anche altro? Qualcosa di diverso, meno opprimente e più spensierato? Oggi proverò una nuova avventura in compagnia di Mattia De Marchi, ultracyclist con un breve passato da stradista pro, che negli ultimi anni si è cimentato in gare dalle distanze estreme sullo sterrato, gravel per intenderci. La sua voglia di avventura lo ha portato ad esplorare posti sconosciuti e a fare esperienze indimenticabili. Siamo a Edolo sul percorso della sedicesima tappa del Giro d'Italia 2022. Cosa faremo oggi Mattia? Oggi faremo qualcosa di alternativo. Con la gravel per me è già alternativo, non lo uso mai. Il Giro d'Italia di solito si pedala su strada, noi faremo qualcosa di alternativo fuori strada, seguiremo in alcuni tratti il percorso del Giro, ma in alcuni tratti andremo sulle strade diverse, noterai qualcosa di particolare, magari dei passaggi che non pensi di vedere. Passeremo degli highlights, che sono dei punti interessanti, che aiutano spesso a tracciare queste tracce. E come fai a pianificare il percorso con i vari highlights? Diciamo che si apre l'app di Komoot, si vedono questi puntini sulla traccia e si inseriscono durante il percorso. Diciamo che questi punti danno una grossa mano per creare dei percorsi interessanti e alternativi, anche banalmente dove si pedala tutti i giorni. Quindi da una mano a scoprire nuove strade e andare un po' all'avventura. Esatto, si va all'avventura. Ho scaricato anch'io da Komoot il percorso che faremo oggi e quindi non ci resta che partire Mattia. Partiamo, partiamo. Sono gasato, partiamo, partiamo. Nuova esperienza, vai. Dai Alain, entriamo nella porta dell'inferma. Poi porta dell'inferma? Stiamo facendo salita quando siamo partiti. Il giro alternativo che Mattia ha creato ha lo scopo di raggiungere Aprica, passando dal Mortirolo, percorrendo meno asfalto possibile. La traccia è di 50 chilometri circa con 1600 metri di dislivello. Ci sono una ventina di chilometri di strada normale, 15 chilometri di sentiero in mezzo ai boschi, 18 di sterrato e il restante inciottolato. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Oh, Maranga, dove vai? Dove andiamo? Si taglia. Quando si taglia in salita è sempre un brutto segno. Si fa meno chilometri. Si fa meno chilometri, ma ha dei muri al 30%. Ah, che roba. È partita la remata ufficiale. Qui si rema al doppio remo io, tra l'altro. Ecco, facciamo acqua qua alla fontana. Si. Che bellino. Diciamo che, allora, è un percorso abbastanza esigente, però abbiamo fatto pochissimo asfalto. Si soffre, ma... Ma con piacere. Bravo. Ecco, abbiamo percorso il primo tratto del Mortirolo dal versante che faranno i corridori in gara. Ovviamente i pro proseguiranno dritto. Noi faremo la strada alternativa. Giusto, Mattia? Esatto. Fino a qualche anno fa magari avrei preso anche io quella strada lì. Adesso che mi piace mai l'avventura. Io l'avrei preso quasi quasi anche adesso, però... No, no, no. Fatica con piacere. Fatica con piacere di qua. All'avventura. Vai. All'avventura. Oggi è una giornata cosa l'avventura. È così. Quando il computerino si stoppa e riparte non so quante volte, non è un buon segno. Vuol dire che sei leggermente piantato e stai remando come una bestia. cosa ti è dato? Doppio remo. Vai a stantufo. Ecco, Alan. Questo era il punto che ci suggeriva con molto. L'highlight. Bello, eh? Dopo tanta fatica... Bisogna guadagnarsene. Le belle viste bisogna guadagnarsene. Mi vale solo la pena. Mattia, tu sei uno tra i pochi ultra cyclist del gravel ad aver assaggiato il professionismo su strada, giusto? Sì. Diciamo che sono due mondi completamente diversi. Il professionismo, diciamo, negli ultimi anni è molto stressante. Devi essere sempre sul pezzo. Invece il mondo gravel si sta estremizzando sempre di più. Si sta estremizzando un po' troppo. Infatti, spero che prima di riuscire a coinvolgere qualche professionista in queste magari mini-avventure, perché secondo me per la testa faranno veramente bene. Diciamo che il mondo del gravel, ma comunque del fuoristrada, è un mondo molto più rilassato. Però devo dire che, diciamo, per collegarmi al mondo del professionismo non vado molto meno di quanto qualche anno fa. Quindi probabilmente anche... A livello di vattaggi, di FTP... Eh, sono rimasti quelli e forse anche un po' di più. Diciamo che forse la differenza adesso la fa la testa e non più, magari, solo le gambe. La forza di macinare i chilometri... Esatto. E poi la voglia... Ha aumentato la dimensione del motore. Esatto. E poi la voglia di... la libertà che ti dà il fuoristrada e passare in questi posti ti dà quella forza in più che magari uno stradista non conosce. Diciamo che nel gravel di estremo trovi lunghe distanze. Sì, esatto. Però diciamo che gli atleti non sono esageratamente fissati con la vita d'atleta, col mangiare, col contagocce, non bere la birretta... No, assolutamente, anzi... Ti togli un po' di sfifi. Ah, sì. È totalmente il contrario. Probabilmente è proprio viverla. Viverla dall'inizio alla fine, dal pedalare, ma anche dalle birrette dopo un lungo giro, insomma. E allora viviamo questa avventura fino alla fine e dopo birretta, ovviamente. Chiaro, chiaro. C'è Marmini, dai, molta fatica. Mi appoggio sulla bici. No, in realtà... Così si va meno fatica. Com'è, Alan? Com'è? Allora, io sapevo che il gravel era tipo ghiaia, quindi... Vediamo di sassetti fini. No. Cioè, non delle pietre di 10 kg su una rampa del 30%, Dema. Eh, ma il gravel è difficile da definire. Diciamo che non è... ogni tanto cammina... Si cammina. Cosa? Si cammina su questi pietroni. Basta guardarsi un po' intorno ogni tanto. Fa parte dell'avventura. Eh, sì. Non è piazza, sta cosa. Ecco, Alan. Siamo arrivati al secondo islet, che è il rifugio al Lago del Mortirolo. Stupendo qua. C'è una pace incredibile. Siamo solo noi, in questo momento. Siamo proprio solo noi. C'è stato un po' da camminare, da soffrire, però... No, diciamo che... Adesso ce la vediamo. Adesso ce la vediamo. Ci guardiamo questo silenzio in mezzo alla natura. È la cosa che preferisco del gravel. È la pace che si trovano in certi luoghi, che magari... Sì, si possono raggiungere anche a piede, però raggiungere con la bici ti dà qualcosa in più. Sicuramente. Qual è stata per te, in questi anni, l'esperienza più bella nel gravel estremo? Diciamo che è stata probabilmente la mia prima esperienza fuoristrada, che è stata la Tras Mountain Race. Era tutto nuovo, quindi non sapevo cosa aspettarmi e probabilmente la partenza è stata in un mood totalmente sbagliato. Ero troppo fissato con la parte race e non mi stavo godendo quello che avevo intorno. E diciamo che è l'essenza di quando si fanno queste cose qua, anche perché se non stai bene con te stesso per, diciamo, 80 ore... Se non ti sopporti. Diventa difficile. Quindi lì in realtà ho imparato molte cose e da lì in poi è cambiato il mio modo di approcciare anche alla bici. Quindi per me adesso la bici è solo godersela, godersela a 360 gradi e per fortuna ho cominciato a farlo quella volta. Caro Mattia, starei qui a sentirti per ore ma si sta facendo un po' freschino. Eh, siamo comunque a 2.000 metri quasi eh. Hanno fatto abbassare un po' la temperatura, dai andiamo... No, andiamo va. Dai 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 dai. Dopo aver remato eppure camminato per raggiungere il rifugio al lago di Mortirolo, ora il percorso diventa molto meno esigente. Si può pedalare senza dover soffrire eccessivamente, ci si gode maggiormente la natura che ci accompagna lungo il tragitto ma soprattutto si inizia finalmente ad apprezzare anche un po' di discesa. Non me ne voglia la salita ma, per colpa del mio peso non proprio da camoscio, io godo decisamente di più quando la strada scende, non importa che sia asfalto o ghiaia. L'importante è sentire l'aria che ti accarezza il viso e che ti asciuga il sudore. Siamo arrivati finalmente ad Aprica, è stata una bella avventura, abbiamo pedalato su sterrato, su rocce, massi abbastanza importanti, abbiamo dovuto anche camminare in alcuni tratti. Abbiamo fatto anche una bella camminata, però tutto sommato io mi sono divertito, anche se ho sofferto un po' perché le pendenze molto spesso erano ampiamente a doppia cifra, però mi sono divertito. Questa è l'avventura, diciamo che quando non si conoscono le strade non si sa mai quello che si trova, però... Abbiamo una traccia da seguire, però ovviamente non potremmo sapere ogni singolo metro che ci aspettava. Però diciamo che abbiamo visto dei posti che probabilmente i professionisti non vedranno. Esatto, i professionisti faranno ovviamente il classico percorso noiosissimo su strada, noi oggi con le nostre gravel abbiamo fatto un qualcosa di alternativo che consigliamo anche a chi ci segue di provare, giusto? Sì, perché finché non si prova non riesci a capire cosa ti può portare. Bisogna provarlo sulla pelle, ma anche la sofferenza di fare questi muri sterrati al 15-20% è un'esperienza da provare ragazzi. Assolutamente. Ho provato nella mia vita una gara di ultracycling, tutto a suo asfalto, sinceramente non la rifarei più. Però, gravel, non lo so, non credo eh, però un po' di curiosità c'è. Secondo me prima o dopo o ti fregano... Sicuramente mi fregaranno, vi dico sempre sì a tutti, quindi mi toccherà fare anche una gara estrema a gravel, prima o poi. Speriamo più tardi possibile. Comunque, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Se il video vi è piaciuto vi ricordo di mettere like, commentare. Non mi resta che dirvi... Iscriviti al canale. Eh, ciao. Arrivederci alla prossima puntata, ciao. Sono finito, non faccio più. Allora a casa, non lo faccio più. Ciao.